Bene, prima dell'ultimo brano abbiamo dato voce, abbiamo dato una grande voce, delle grandi voci, ma abbiamo ascoltato all'inizio della serata la Carmina Burana e adesso andiamo a concludere con questa magnifica orchestra, la banda musicale Città di Quarto, andiamo a concludere con un bellissimo pezzo. Prima di concludere però vogliamo ancora ringraziare l'amministrazione comunale del comune di Quarto Sant'Elena, l'assessorato alla pubblica istruzione, sport, spettacolo e cultura, l'assessorato programmazione e patrimonio affari generali, personale e tradizioni popolari, la provincia di Cagliari, assessorato cultura e spettacolo, il presidente con il direttivo Aldo Pisano, il direttore artistico, il maestro Nicola Corrias. Benissimo, vogliamo anche ringraziare Martino Sarrizzo che è un consigliere comunale che si è prodigato davvero tanto per avere il generatore di corrente, per tante cose utili come questo service meraviglioso, luci e audio, poi ci sarà la registrazione, abbiamo visto anche delle telecamere quindi ci sarà anche un video sicuramente, quindi poi basta che prendiate informazioni dal presidente e troverete questa magnifica serata magari da tenere come ricordo. Ringraziamo i cantanti, Anna Maria Fasolino, il maestro Moreno Pateri, Diana Puzzo, gli insegnanti Fabiano Spano, Ancio, Nicola Corrias, Ottoni, Roberta Dejana Percussioni, Stefania Cino Sflauti e naturalmente con questo brano ringraziamo anche voi che avete davvero apprezzato la musica, lo vediamo, siete tantissimi e io mi auguro davvero che queste cose in una città grande come Quarto passino davvero bocca per bocca, insomma si dice così parola per parola e arrivino all'orecchio di davvero tante altre persone che possano venire qui o venire in un contesto come questo ed ascoltare queste grandi orchestre, il lavoro di questi ragazzi. Bravissimi. L'ultimo brano, Innuendo, è un suono epico, è considerata la Bohemian Rhapsody degli anni 90, un brano dei Queen, è nato durante una gen session che si era svolta in Svizzera tra il chitarrista dei Queen e Freddie Mercury ascoltò, era al piano di sopra, ascoltò questa melodia scese e scrisse insomma questa specie di grande brano, di grande composizione, è particolarissima, vi inviterei a fare l'applauso al fine del brano perché si muove in un contesto musicale un po' particolare che lascia magari spazio alla voglia di applaudire, aspettate il gran finale perché sicuramente sarà una grande emozione. Banda musicale Città di Quarto, Associazione musicale Sant'Antonio, vi ringrazio, non farete buge du anche, grazie a tutti. Innuendo Grazie. Applausi Grazie a tutti. 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 Vi sono riuscito ad avvicinarvi al proscenio. Vicino al maestro. Avvicinati al proscenio vicino al maestro. Prego. Accomuniamo questo applauso Con una standing ovation Ci vuole qui Su in piedi Per questa magnifica orchestra Questi magnifici esecutori Moreno Pateri Anna Maria Pasolino Diana Pundu Il maestro Nicola Corrias La banda musicale Città di Guardo Sant'Ele